Si è svolta questa mattina a Palazzo San Giorgio la presentazione del progetto PRISM. A illustrare nei dettagli obiettivi e modalità d'attuazione dell'iniziativa, dopo il saluto del sindaco rivolto a tutti gli intervenuti, è stato l'assessore alle politiche sociali del Comune di Campobasso, Luca Praetano, insieme ai rappresentanti degli altri partner del progetto. Il progetto PRISM è un progetto di supporto agli enti locali, Unfami, per il quale il Comune di Campobasso si è candidato con alcuni partner. Riusciremo in questo modo a dare supporto ai comuni nei confronti di persone di paesi terzi che dovessero trovarsi in difficoltà. Si tratta anche di una informazione e condivisione di buone prassi, 330 mila euro che servirà per tutti i comuni della Regione Molise. Diverse le attività operative previste all'interno dell'iniziativa, e lo ha precisato il sindaco Roberto Gravina, si procederà quindi alla stipula di un protocollo per coinvolgere attivamente ulteriori soggetti pubblici e privati che operano in Molise, i quali potranno contribuire a migliorare i servizi del territorio molisano in favore degli stranieri, offrendo loro nuove occasioni ed opportunità di integrazione sociale, economica, culturale e lavorativa.